Ciao ragazze, allora mi è arrivato il pacco di OB perline come avevo detto nel video precedente allora, ho fatto un piacere alla mia amica e io ho ordinato il kit che non vi faccio vedere perché già ho fatto vedere quello mio e ora vi faccio vedere le altre cosine che mi sono arrivate un attimo che mi è arrivato allora, questo è stato un omaggio suo che è questo il codice, guardate e sono queste tipo minuterie poi questa confezione con questo codice io ho preso la rotellina però è arrivata questa non so come mai però vabbè poi è arrivato questo pacchettone che adesso lo tiro fuori e piano piano mi faccio vedere e allora ho questo perline 8-0 10 grammi poi queste monachelle con questo codice sono 48 poi questi poi questi qua che sono 15 e sono distanziatori poi queste perle 20 perle 4 grammi collocare ma svaroschi con questo codice con questo codice sono molto piccole e chiodini a testa piatta codice per mia testa piatta poi questi poi questi distanziatori pallina 144 poi questi anellini aperti argentato 100 pezzi questi chiusure moschettone codice e le chiusure poi questi qua che è una catena non ricordavo 50 cm questo è il codice e questa è la catena vi faccio vedere poi questo mi ho sbagliato pure vabbè fa niente filo in cacciù questo è il codice pensavo che era forato mi sbagliato va bene queste coppette 48 ecco qua il codice e le coppette sono queste di 7 mm poi questi qua che sono i coppieschiaccini questo è il codice poi questi di qui sono le farfalline un codice e poi niente questo che cosichiamo questo che ve l'ho fatto vedere il codice è questo con tritore abbastanza grande più grande della mia mano è questo che mi hanno dato come mangio il codice è questo forse già ve l'ho detto e poi c'era tutto imballato con questa e c'era naturalmente la fattura io ho pagato in tutto questo 61 e 24 e niente ragazzi finito il marzo e al prossimo video ciao